Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta di mercoledì a Mondoville, Vole Soverato si rituffa nel campionato perché domenica la squadra bianco-rossa è attesa da una trasferta a Perugia. Coach Barbieri, presentiamo questa partita. L'andata fu una grande battaglia, tra virgolette, finì 3-2 per il Soverato che rimontò dal 2-0. Un Perugia che attraversa un periodo di difficoltà, attualmente quart'ultimo in classifica, ma comunque una formazione da prendere come le consuete pinze. Sì, loro in settimana hanno preso la Tomic, che è una signora giocatrice, perciò hanno cambiato un attimino i valori della loro squadra. Sì, all'andata per 2-7 eravamo un po' all'inizio del campionato, abbiamo rivisto anche il video oggi, non eravamo messi in campo sicuramente bene, ma nell'arco dell'anno siamo cresciuti. Tornando a loro, sicuramente una squadra importante, perché ha degli attaccanti veramente importanti, che hanno una grossa esperienza come Pascucci, e questo fa sì che non sarà facile. Però noi oggi stiamo recuperando energie, perché arriviamo da un tour de force molto pesante, però questi giorni abbiamo, come ho già detto, recuperato energie, e perciò cercheremo di arrivare in un'ottima condizione e logicamente fare punti, che per noi è molto importante. Due vittorie consecutive in campionato, poi è arrivata la sconfitta di Mondovì, sicuramente non è stata una prestazione positiva. Da dove ripartire in vista di questa trasferta e poi per le prossime partite? Sappiamo poi che il Soverato affronterà Cuneo in casa, poi però ci sarà la sosta, il proprio turno di sosta, quindi quella sarà un'occasione anche per ricaricare le consuete batterie? No, no, sapevamo di avere un tour de force molto importante. Devo dire che la vittoria a Mondovì da tre è stata qualcosa di eccezionale, comunque forse anche un po' inaspettato per il momento che eravamo, e abbiamo fatto una seconda vittoria qua con Baronissi, perciò del campionato siamo ripresi bene e siamo contenti. È un dispiacere comunque uscire dalla Coppa Italia, questo è inevitabile, perciò mi spiace per la società, per i tifosi, per tutto, però se devo fare un ragionamento in vista dei play-off, in vista del futuro, forse ci può anche stare. A livello fisico per noi cominciava a diventare veramente pesante, perciò questo, nella delusione di non esserci, ci permetterà comunque di lavorare con più attenzione, con più determinazione per quello che saranno i play-off quando veramente si giudicherà il campionato. Infine, siccome abbiamo sentito più volte anche il presidente Matozzi, adesso arriviamo agli ultimi giorni prima della chiusura del volley mercato, è inevitabile anche una domanda sul volley mercato, sappiamo che la società è al lavoro per completare questo roster e per alcuni avvicendamenti. Sì, vabbè, noi lo stiamo dicendo ormai da un mese che stiamo cercando la palleggiatrice che ci possa dare una mano perché non abbiamo una seconda palleggiatrice e questo ci ha un pochettino penalizzato. Però devo dire che le ragazze sono sempre molto brave perché malgrado l'emergenza si allenano sempre con determinazione, con attenzione, anche oggi avevamo in campo 4 maschi, però sono convinto che in settimana qualcosa arriverà e sicuramente una palleggiatrice che ci possa dare una mano, questo a mio avviso serve per il futuro, perciò qualcosa sicuramente arriverà.